Gerda Weissensteiner Pronta l'azzurra Ha un gran vantaggio 30 metri tradotto in distanza 600 millesimi Parte con 4 centesimi di ritardo su Susi Erdmann Sdraiata Assolutamente orizzontale Addirittura un po' arcuata Perde 7 centesimi La slitta va docile Il corpo la controlla Un decimo Rimangono altri 5 Anzi 535 millesimi di vantaggio Addirittura recupera Ha ora 546 millesimi di vantaggio Attenzione a quel rettilineo Eccolo qui Ha anche frenato E passa addirittura in vantaggio anche nella Manche 117 all'ora La più veloce di tutti Ultimo rettilineo per lei Va a fare persino Il miglior tempo di Manche Per la quarta volta consecutiva E' l'oro E' l'oro per Gerda Weissensteiner 117 millesimi di vantaggio in questa Manche Ma quel che più conta 75 centesimi Per l'esattezza 759 millesimi E' l'oro per lei Ora finalmente computer Gerda si può sciogliere Per la mia notte Il miglior tempo di manche in questa Manche Per la mia notte La mia notte Per la mia notte La mia notte Per la mia notte E' l'oro per le